Buongiorno, oggi prepariamo un secondo tipico della nostra regione. Facciamo una frittata di lampaccioni con aglio, menta e prezzemolo. Viene tolto il fondo, quello invecchiato, vecchio, perché questo si mantiene asciutto. Viene tolto, ecco, in questo modo, tutto quello che è più secco e più vecchio. Viene fatta un'incisione centrale, in questo modo, messi in acqua. Bisogna fare il cambio dell'acqua per 4-5 volte, in modo che esce fuori questo gusto un po' amarognolo. In una pentola mettiamo 50 g di olio. Mettiamo questi lambaccioni ben sgocciolati. Li mettiamo a soffriggere. Tritiamo molto sottile l'aglio. Mettiamo prezzemolo, mentucce. 4 uova. Stiamo mettendo adesso il pane e il formaggio grattugiato. Come dicevo prima, il pane non deve essere secco, deve essere una mollica di pane oppure un pane in cassetta tritato. E' già pronto. Mettiamo un po' di sale. Questo non va messo nell'impasto bollente, ma va fatto raffreddare. Mettiamo dell'olio in un pegame. Mettiamo sul fuoco. Possiamo mettere già la nostra piaccata. La facciamo cuocere dall'altro lato. Ed è quasi pronta. Adesso la possiamo impiattare e servire. Fammi. Silva. Mettiamo. Com'è? A presto. A presto. Così, come even?